Bentornati a Corner, io vorrei mettermi subito in contatto con Ottavio, Ottavio puoi leggerci qualche tweet o email? Sì, allora intanto vorrei dire che oltre a Kulovic vorrebbero anche Puppetovic in campo Puppetovic non è cattivo Ecco, allora il Catania di domani, la formazione, chiedevi la formazione è subito arrivata Frison, Peruzzi, Piraghi, Giomberro, Lin, Plagil, Taxidis, Castro, Checo, Boatengleto Manca Maxi Lopez, secondo il nostro Viver 958 Manca tutto Bergessio, eccolo qui, ve lo faccio vedere Tanti auguri a Bergessio, ce lo fa Roby De Cervo con questa foto che ha mandato Come potete vedere, queste sono tutte le faccine di Bergessio Che meraviglia, ma chi sono questi qua? Hanno fatto uno striscione con tutte le facce di Bergessio Sì, ma anche loro, come puoi notare, hanno qui la faccia di Bergessio Non ci posso credere, ma chi sono? Eh non so, saranno dei maghi a Photoshop comunque Allora, Roby De Cervo Bravo Roby, guarda, questo penso che è bello essere a essere Gonzalo Bergessio Questo mi sembra una delle cose più simpatiche che abbiamo mai ricevuto Penso uno dei regali più belli che può ricevere un giocatore di calcio